Il mio nome è Paolo Sartori, sono fotografico montaneo. Su un'espedizione fotografica tutto è adattato all'immagine. I climbers compilano abbastanza un po' di avere di wake up early, ma la fotografica non può competere con la realtà in termini equi. Non sarà mai così bene come quello che vedo con i miei occhi. Ho sempre bisogno di trovare una perspectiva che l'occhio non capisce. Se cambiate il punto di vista di vantaggio, tutto il scenario cambia, perché ci sono tantissimi strumenti sui distanze diversi. Tutti piace gli occhi chiari e l'espedizione, ma le condizioni varie sono parte del carico. E' lo stesso in climbing. In diversi condizioni, la stessa ruta sarà una totalmente nuova. Per me la fotografia è diventata profonda con creare memorie. E' quello che mi ha fatto in questo in primo momento. Per preservare i momenti. La mia stessa ruta la carica. E' lo stesso in più? E' lo stesso iniziato. E' lo stesso iniziale.